1990, due killer uccidono Enrico De Pedis 1935, utilizzata la prima macchina della verità 2007, incidenti al derby di Sicilia, ucciso Filippo Racite Commenta il fatto del giorno Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto In questo giorno viene ritrovato il naufrago che ha dato vita a un grande libro, Robinson Crusoe